Quali sono i leader da tenere maggiormente d'occhio in OP-06? Che impatto avranno sul meta che verrà e la loro presenza cambierà il volto della Tierra attualmente in vigore? Nel video di oggi troverete la risposta a queste domande. Signori bentornati sul canale con il nostro consueto appuntamento settimanale. L'arrivo del sesto atto del TCG di One Piece si avvicina e altri leader faranno la loro comparsa mettendo a ferro e fuoco il meta che verrà con i loro personali deck. OP-06 però non è solo puro set ma anche prodotti satellite come il mazzo dei tre fratelli che darà la possibilità ai già visti Ace, Sabo e Luffy e lo starter di Zoro e Sanji alle stesse ali del capitano di calcare il palcoscenico del trimestre a seguire. Ma tra tutti solo alcuni riusciranno a differenziarsi in termini di potenza e tenacia imponendo il loro dominio su alcune zone marittime della mappa mondiale che dall'alto della sua posizione il grande ammiraglio della marina, veterano di un'espansione alle spalle, dovrà riportare sotto il controllo del governo mondiale. Sarà proprio nel video di oggi quindi che vedremo quali saranno i leader da tenere maggiormente d'occhio in Wings comprendendone le potenzialità e quali carte presenti nel deck potranno aiutare maggiormente i seguenti personaggi a ricavarsi un posto di primordine nella tier futura. Signori, dalle statistiche di YouTube ho notato che in media il 77% di chi guarda i miei video non è ancora iscritto al canale. Pensate che se solo la metà decidesse di supportare il progetto si raggiungerebbero i 10.000 iscritti in pochissimo tempo. Perciò datemi una mano, se ancora non siete iscritti basta un clic. Per voi è un semplice gesto ma per me è di grande aiuto. Grazie per il supporto, torniamo al video. Ed ora scopriamo assieme quali saranno i leader da tenere maggiormente d'occhio in OP-06. Andiamo a dargli un'occhiata. Partiamo con Moria, il sovrano di Thriller Bark nella sua versione Total Black di sicuro farà parlare di sé. Avendo a sua completa disposizione sia il background presente da OP-02 con tutto il reparto marina e le nuove leve con tratto dell'omonimo regno, il tenebroso farà della resurrezione la sua arma più potente. Grazie anche alla sua controparte character a costo 8 inoltre, egli incastrerà combinazioni di carte che metteranno in serie difficoltà chi vi giocherà contro, dandovi la possibilità di avere sempre dei pezzi utili alla manovra offensiva sul campo di battaglia o costruendo un muro difensivo pronto a proteggervi da assalti rivali. Passiamo a Yamato verde-giallo. Il suo duplice effetto è semplicemente troppo forte. Di per sé, senza assegnazioni di eventuali risorse o azionando alcunché, possiederà un pericolosissimo double attack. Ed in più, se l'avversario avrà tre vite o meno a disposizione, avrete la possibilità di assegnare due donne esaurite ad un qualsiasi character sotto il vostro controllo. Interessante l'interazione con il kid promo, che non ho visto molto giocare nei vari match dove la figlia di Kaido è stata protagonista, ma il magnetico potrebbe comunque tornare utile alle manovre agro del deck cercando di mettere immediatamente alle strette l'avversario. Il contro comunque starà nel fatto che, con molte carte nella propria mano, il rivale avrà discrete possibilità di poter smorzare sul nascere eventuali colpi fatali, quindi il tutto andrà testato con cura per avere riscontri, positivi o negativi certi. Reiju di sicuro ha stuzzicato la mia attenzione, soprattutto per il reparto Vinsmoke che gli fornirà manforte nelle battaglie che verranno. Un deck che reputo meraviglioso, non tanto per la sua competitività, ma per le sue meccaniche a tema, proprio come la tipologia film. Infatti se per il verde il giocare più pezzi a turno è un fattore ordinario, qui la cosa che mi ha attirato maggiormente è stata l'evoluzione dei personaggi. Ad esempio, un Niji a costo 3 con 3000 punti di forza, se distrutto attraverso il suo effetto main, privandovi di un Don, vi fornirà la possibilità di giocare una sua copia a costo 5 forza 6000 dalla mano o dalla pila degli scarti. Stessa cosa per Reiju personaggio, Yonji e Ichiji, per non parlare di Judge, che attraverso la sua abilità richiamerà l'intera famiglia raccolta. In più con questo mazzo pescherete molte carte dal deck, grazie allo stesso effetto del leader e alla capacità degli altri elementi presenti in esso. E per quanto riguarda i tre fratelli e Zoro con Sanji e Arconte? I loro deck li sto attualmente studiando e devo dire che non mi dispiacciono affatto, anche se li reputo leggermente inferiori al livello di potenza rispetto ai tre leader visti poco fa. Per quanto riguarda i fratelli, il più performante mi sembra Sabo, che ha un effetto che esula dall'utilizzo delle vite in modo da privarsene alla fine del turno, o non portandole alla mano una volta prese, come per Ace o Luffy, ed avendo inoltre anche il rosso in combinazione con il perenne giallo, il rivoluzionario sarà praticamente una Bonnie versione 2, pronto ad aggrare e qualsiasi cosa si muoverà. Per lo spadaccino e gamba nera, d'altro canto, non ho visto molte profile portare risultato, quindi quando lo starter arriverà da noi andrà analizzato a fondo. E per i restanti leader del set invece? Sia Perona che Jones non mi convincono molto, ma andranno comunque testati per saggiarne le capacità a fondo. In più c'è da considerare l'eventuale banlist che affliggerà il gioco dopo il mondiale previsto per il 3 marzo, che inevitabilmente andrà a toccare qualche corda indebolendo eventualmente le profile della Tier 1, ma se non si andrà a toccare nulla, i già presenti Saka, Kata ed Enel dall'alto della loro posizione non staranno di certo a guardare. Decisioni per conto della casa madre a parte, comunque i diversi aspiranti re dei pirati anche in Wings of the Captain troveranno nuovi spunti per dominare i mari grazie alle carte in arrivo in questo nuovo set. Altri pericolosi leader stanno per arrivare nel sesto capitolo del TCG di One Piece e spetterà voi vestirne i panni facendo provare a chi vi giocherà contro il grande potenziale che sprigionerete in match sempre più avvincenti. E voi quale desidererete provare? Come sempre, fatemelo sapere nei commenti. Mi auguro che questo video sia stato di vostro gradimento. Prima di salutarci vi invito a cliccare qui a sinistra se vorrete scoprire altri contenuti interessanti legati al mondo dei TCG. Vi ringrazio di essere stati in mia compagnia. Noi ci vediamo al prossimo video.